Eccolo, scusi un attimo eh, scusate che ho il bigliettino, Michelle, si, sono i salumi, dimmi, va bene, due etti di mortadella, grazie. La mortadella fa male al colesterolo. Grazie signora. No, dicevo una signora qua giustamente che la mortadella fa male al colesterolo. Ah, dice Michelle, mia ragazza, che non è vero. Contenta lei? Sì, va bene, e allora salame piccante per fortesia. Fa bruciare lo stomaco. Grazie. La signora di prima dice che fa bruciare lo stomaco. Glielo dico, Michelle, mia ragazza, dice che non è vero, anzi aiuta la circolazione del sangue, pensa. Ma va. Ha detto ma va. Dice che lei non capisce niente e se si può fare gentilmente gli affari suoi. Michelle, ma si... Però, signora, scusi, l'ambasciatore non porta pena, non è che sono stato io a dire... Maleducato. Ma c'è? Certo è che è diventato pericoloso fare la spesa, eh? Molto pericoloso. Lei non ha paura di questa gentaccia, no? Allora? Che si fa? Che si fa? Ciao! Ma per scherzare. Volevo tre panini e un bel pezzettone di pane da mezzo chilo. Voleva anche qualche tipo di pane in particolare. No, faccia lei il pane pane tanto. Magari un po' di quello salato, giusto. Amore, ciao. Eh, sono qui che ti compri il pane, eh? Va bene, va bene. Mi mette dei grissini integrali, grazie. Sì. E del pane di farro, farro. E miglio, insieme, eh? Farro e miglio, insieme. Segale? Esiste? E del pane di segale. Ah, e non si dimentichi il mio pane salato, eh? Perché lei poi fa, se ne approfitta, magari non lo mette. Sì. No, no, il pane salato no. Infatti, no, l'ho appena detto, ho detto, non metta il pane salato. Anche lei non è che metta il pane salato se non glielo chiede il cliente. Scusi, eh? Gentilmente. No, amore, eh, ho capito, l'ho ripresa. Se approfitta. Eh. Va bene? Arrivo. Ciao. Ciao. Buon. Ah, perché io sono nutrizionista, ci tengo, non so se nota anche la... Poi se lei mi lascia magari un telefono, una mail, noi potremmo con la nostra associazione... Vada, vada. ...tenerla di qua, vero? Sì, Michel. Sì, sono al reparto cosmetici. Dimmi. Un profumo. Allora, aspetta, fammi vedere questo. Allora, questo è muschi e licheni. Michel, mus... Sa di muschi e licheni, non ci crederai? No, non lo so come si fanno ad assaggiare i profumi, no? Ma ti sembra che adesso io mi... Rimani in linea, eh? Rimani in linea un attimo. Muschi e licheni, Michel. Sì? Va bene. Preso. No, lo struccante no. Per favore, amore, ma non posso prendere tutto io. Le tue cose le conosci tu. Vieni, vieni. Rimani un attimo in linea. Senta, signorina, scusi, c'è la mia ragazza che vorrebbe uno struccante e se può aiutarle io non ne posso più. Certo. Babba via. Venga. Sti muschi e sti licheni. Pronto? Ciao, dimmi. Uno struccante? Sì, vediamo un po'. Ho un trattamento antirughe rassodante che è formidabile. Guarda, l'ho provato anch'io, me ne sono già date via due. Una crema nuance per i capelli. Sì. Ah, un bagno delicato. Ah, è delicato anche sugli occhi. Questo è per i bimbi, però. Però rende la pelle morbida, giusto? Michelle, tutto a posto? Ho preso tutto quello che ho voluto, tutta la tua spesina. Com'è? Ti sento male, Michelle? Parla. Eh, hai fatto l'analisi del sangue, mi fa molto piacere. E hai delle allergie. Va bene, parliamo a casa, perché adesso sto facendo... Infatti poi, fra l'altro, io ti ho preso tutte le tue cosine che non sono proprio farro, il tofu, il seitan, tutto quello che mi piace, le fibre rosse, quello che... Ah, sei allergica proprio a quelle cose lì? E quindi la spesa cosa... No, ho capito, ho capito, ho capito. Va bene, la lascio lì, va bene. Ciao, ciao. 150 euro. Oh, allora? No, infatti, 150. Meglio, preferisco che... Ecco qua. Ecco, giusti, giusti. Arrivederci. E la spesa? No, è che mi hanno... Perché uno dice, prendi il farro e il tofu, e io allora ho preso come mi era... Quindi dopo viene fuori il... Le glutamine, giusto? La... E quindi gliela regalo. Ciao. Buongiorno, voglio assaggiare qualcosa? Se voglio assaggiare qualcosa? Certo che... Cosa mi fa assaggiare? Ecco, questo è il nostro pollo ai peperoni. Pollo ai peperoni, il mio preferito. Lo provi, è squisito. Grazie. Ho la bandierina della Grecia. Buono, vero? No, buono, molto buono. Sì, sì, è buonissimo. Ma molto, molto buono. E pensi che oggi è anche un'offerta speciale? No. Dieci pacchi a soli 40 euro. E stiamo qui a pensarsi, dieci pacchi a 40 euro, preso. Ti li prendo allora? Certo, sto anche bene di famiglia. Bene. Riprenda, riprenda. Poi magari quando ho finito le scorte, non so, mi lascia un telefono. La mail. Mamma mia. Com'era, amore? Eh? Niente, tutto... Cattivo. Dieci pacchi di pollo ai peperoni per il signore. Dieci pacchi, eh? Non ti è mai piaciuto il pollo e il peperoni? Come mai adesso? Tutto ad un prato? Ma hai peperoni? Peperoni? Certamente. Vabbè, adesso ormai... Per te, tua mamma, per tua mamma, che ti piace tantissimo, fa passare. Ah, guarda chi c'è, guarda chi c'è, grandì, guarda, guarda, andiamo, andiamo, andiamo che... sta correndo via. Arrivederci. Arrivederci. Perché ridi? È passato tanto dall'ultima volta, eh? Michelle, dai, no. Ti ricordi le prime volte che venivamo al supermercato? Appunto, le prime volte. Poi c'è gente, mi vergogna. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No. Dai, amore. No. Amore! Via, che se ci vedono ci legano. Chi sta? Eh! Via, 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 via! E' io? Bravo, amore, curva, curva! Curva, curva, curva! Oh, che fai? Via di lì! Non ci facciamo fuori, amore, non ci facciamo fuori! Sì, Michelle, è tutto chiaro, ma cosa intendi tecnicamente per Asgrove? Ah, biscotti, scusa. E qua, qua, qui, qua, qui, qua, acqua sarà, infatti. E invece fritti d'aviano, cos'è? Ah, fiocchi d'avena, sembrava un piatto tipico veneto. Va bene, tutto chiaro. E la farina gialla. No. Amore, non mi dire che mi fai la polenta col coniglio. Amore, grazie. Sì, 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 no, la vedo. Fra l'altro ce n'è rimasto uno, lo vado subito a prendere, sì. Sì, eh, no, no, guardi, l'ho visto io. Sì, ma io l'ho preso prima. Sì, no, va bene, l'ho preso, però io l'ho visto da lì. Ma io l'ho preso adesso, non arrivato prima di me. Io rispetto perché non è una persona anziana. La ringrazio. Adesso si molla, no, niente, mi scella un signore, un vecchio che... Lasci, la penta! Bravo, bravo. Complimenti, bravissimi. A lei complimenti. E adesso la mia polenta col coniglio? Sì, perché la mia con i funghi la butta via, lei? Ma guarda un po', guarda. Sì, Michel, sono al banco del pesce, c'è anche gente, va bene, glielo chiedo. Salmone ce l'ha? Pronti, salmone. È bellissimo, è bellissimo. Sì, Norvegia o Scozia? Norvegia. E dice che è Norvegia, che è quello... Va bene, no, ok, ok. C'è calamari bianchi, calamari bianchi. Guarda che bello. Belli, glielo chiedo. Scusi, la mia ragazza, chiede se è mediterraneo o oceano. Mare. Mare. Eh, non lo sa, mare, comunque belli, fidati. Beh, va bene, ok. Niente. No. Merlutti, merluzzetti. Sì. Stanno arrivando i merluzzetti, eh. Sì. Sì, beh, fresco, fresco. Si muove. Sì, molto fresco. Puoi togliere un occhio? Mi chiede, ragazzi. Scusate. Sta togliendo, eh. Il destro e il sinistro, uguale, uguale. Sì, adesso un attimo che lo prendo. È un occhio, Michel, bianco, con... Mi guarda, fa anche un po' impressione. Sì. Lo può sbuzzare, aprire? Lo sta aprendo. Adesso appena vedrò l'interiora, te le descrivo. Anzi, facciamo una cosa. Rimani lì, un attimo. Sì. Dovrebbe arrivarti adesso. Nel frattempo ti descrivo, sembra, vabbè, un pesce morto di stenti. Perché di stenti nel senso di soffocamento. È arrivato? Allora? Bene. Perfetto. Ciao, amore. Ciao. Quanti? Ok. Eh? Quanti? Non ho niente, perché... Niente. Dice che tutto... Sai, che non gli è piaciuto un po' l'aspetto del... Forse per me, io prenderei... Però è una questione puramente... Scusate, ma... È proprio una questione... Ma... Buongiorno. Buongiorno. Sì, cara, sì, sì, le ho trovate, le ho trovate, le ho trovate, le arachidi. Senti, ci sono chiare, ci sono scure, quale... Scure? Va bene, va bene. Sì, 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 arrivo subito, guarda. Amore, non lo vedo. Senti, lo cerco, ma non lo vedo. Non so neanche come è fatto il mango. Guarda, ci sono le pere coscia. Tesoro, sì, lo so che sono in ritardo, ma... Mi sbrigo, farò presto, non ti preoccupare. Che poveretto. Il poveretto. Dei poveretti. Michel, pronti? Sì, certo. Stavo uscendo adesso, arrivo. Ah, volevi? Quelle mature, benissimo. Magro? Ok. Quanto tempo ho? Dieci minuti, ce la faccio. Un attimo. Ciao. No, c'è troppa fila, andiamo via, amore. No, Michel, voglio questo pesce, questo è quello buono. C'è la fila perché il pesce è buono. Ci vuole un'idea. Ma qual'idea? Scusi, che macchina ha, lei per curiosità? Una macchina cabrio, perché? Aia, a colore? Champagne. No, gliel'hanno tamponata? Cercavano uno, sì, cercavano uno con la macchina a champagne. Sei il cielo? E tengo il posto. Non ti fanno... Michel, il paese dei giuri, deve essere puliti, se no la fila... Ha saputo che nel banco dietro qua per dieci minuti regalano prosciutto a tutti? Davvero? Però bisogna sbrigarsi perché sennò chiudono. Oh, grazie. E tengo il posto, magari. Mi fai schifo, hai capito? Che niente. Certo, scrupoli morali. Senta, faccia vedere, prego. Bello, dispari. I prossimi dieci minuti. Così, sì. Ma quella non è il suo moglie che sta strusciando col macellaio. Dove? Dove? No! Michel! 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 Boom, dai che abbiamo fatto. Ah, no, 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 Michel. Il frullatore, il reparto elettrodomestici. No, ma io ho paura. No, 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 basta. E' paura di che? E' troppo grande questo posto, mi mette ansia, paura, panico. Oddio, 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 oddio. Ci perdiamo? Ma che ci perdiamo, Michel? Dove dobbiamo andare noi? Ragiona. Eletrodomestici. Ecco, dobbiamo tornare qui. Qui sei tranquilla, sai dove siamo? Boh, allora. Eh, ecco. Cosa stai facendo? Eh, un metodo infallibile. Ma Fabio, ma stai scherzando? Reggi, reggi. Stamattina ho legto sul giornale una cosa incredibile. Una ragazza in America si è persa nel supermercato, era troppo grande. Allora dopo due giorni hanno trovato un accello figurifero, era morto. Allora non hanno tagliato tutto, 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 perché l'avevano scambiata per un buo. Certo, era un po' grassa, però sai cosa è successo? Il fidanzato se l'ha ritrovata nel piatto e l'ha riconosciuta dalla mente. Che schifo, dai Michelle, su, anello. Torniamo qui, guarda, è un metodo infallibile, si chiama filo di Losanna, fra l'altro. Mi stupisce che tu, Svizzera, non sappia queste cose. Ma qual è lì il filo di Losanna? Marianna magari. Sì, Marianna. Vabbè, Marianna, Losanna non è importante. La cosa importante è che è un metodo infallibile. Amore, come faccio arrivare lì? Calma, tanta, tanta calma. Michelle, stai tranquilla, scusate, scusate per i disagi, stiamo un attimo risolvendo una cosa. È di qua, è chiaramente di qua. Si va così e si, e si... Amore, non lo so. Non lo so, scusa, scusa. No, amore, gli assaggini. Questi qua cosa sono? Biscotti salati croccanti. Mmm, buonissimi, assaggia. No, 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 io faccio la dieta, se la roba di palestra, faccio le salati. Dai. E questi qua? Crostini di verdura al formaggio. Non puoi capire, assaggia. Scusa, non avevi detto che non potevi mangiare i latticini? Eh, per un bocone mica muoio. E questi? Un polpettino di hummus con olio extravergine. No, assaggia, amore. Me la faccio. E questi qua? Antipastini in salsa rosa tonnata. Amore, non puoi capire. Non puoi capire. E allora cosa vuole comprare? Niente, grazie. Non ho più fame. Vai, vi dici. Amore! Magari mi lascia. Eccolo. No, Michelle, bellissimo. Siamo nel regno dell'igiene intima. È vero. Nella tana del lupo, è bellissimo. No! Wow! I miei assorbenti al 50% di sconto. Ne devo approfittare, tesoro. Ma stai scherzando? Sì, Michelle, però non ti sembra di esagerare un po'? Ma no, lo faccio per risparmiare. È così che si fa, scusa. È mica scadono, eh. Ma guarda che roba. Mi prendo mille, guarda. Allora, Michelle, Michelle, guardami, guardami. Michelle, allora, facciamo una botta dei conti con tutto l'affetto. Che? Allora, uno al mese, fino a 50 anni, te ne basteranno, se no, 300, no? Michelle, Michelle, non è culpamente la prendere con me. La menopausa non è un'opinione. Michelle, 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 allora, come ti permetto? Ecco qua, pronto. Bravo il mio amore che hai scelto la frutta e la verdura. Scelta io, scelta io. Fabio, le banane sono acerbe, si vede lontano un miglio. Lascia stare le mie banane. Guarda le mele come sono andate tutte a male, che hanno anche il buco del verme. Poi ti avevo detto di prendere i peperoni rossi, non quelli gialli. Non vale, peperoni rossi. L'avocado almeno l'hai controllato se è maturo, eh? Cioè? Ah, Fabio, non conosci il metodo per capire se un frutto o una verdura è matura? No. Dai, allora, te lo spiego. No, Michelle, dai, no. Per vedere se è maturo devi buttarlo per terra. Se rimane per terra vuol dire che è troppo maturo. Se invece rimbalza vuol dire che lo puoi comprare, ok? Ti sembra che mi metto a buttare la roba per terra? Poi che frutta è che rimbalza? Dai, Michelle, su, andiamo. È il metodo svizzero. Ah, che svizzero? Vai, vedrai. Questo è maturo, per esempio, è il punto giusto. Vediamo. No, questo qua non si può comprare. Vediamo. Questo è normale. La melina. Ehi, la. È come la palla magica, non è una mela. Vediamo il pompelmo. Vai. Uh! Scusa, Michelle, visto che abbiamo a che fare con la campionessa mondiale di spesa supermarket, vediamo. Allora, se quello che ha comprato lei è fresco. Oh, non è rimbalzato. Questo non si può, butta. Eh, qua. Eh, no, 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 è marcia, anche questo. A provare con questo? Questo era buono, peccato che non l'ho preso per un attimo. Ciacchi, si va, via. Fabio, cosa stai facendo? Sei impazzito? Prendo un po' di carne. Come un po' di carne? Fabio? Michelle, dai, ne prendiamo un po'. Guardate qui, queste le prendiamo 10 o 12, perché è risossata. Fabio, dove le congelo? Non abbiamo un frigo gigante a casa, scusa, eh? Ma poi tutta sta pesti canquina, metti via, dai. Sto semplicemente facendo le scorte, nella vita non si sa mai, Michelle. E allora perché ne prendi direttamente una mucca intera? Scusa, dai, metti. Ma dove vai? Dove sta andando? Paglina! Fabio! Ma dove l'hai preso? Allora, non è che l'avamo finita. Mettilo via. Allora che bellino. Mettilo via. Ma questo ce lo facciamo stasera col palo. Fabio! Fabio, mettilo via. Ma sì, nata. Ma che... Vitellino. Ma che schifo, portalo via. Eh? Ma davvero il mio amore. Carino, eh? Fabio. Che? Quando mai ti ho detto di prendere i cioccolatini che fanno male e fanno ingrassare, sono schifezze. Te l'ho detto mille volte. Sì, 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 certo, certo, ho capito perfettamente. Questi non li ho presi io. Però conosco una ragazzina bionda, di cui non faremo il nome, che se ne mangia una scatola davanti al televisore. Però se ti fa bene dare la responsabilità agli altri, meglio per te. Non ci posso credere, le robe fritte non le ho mai fatte in vita mia, non ho mai impuzzolentito la casa, dovrei farlo adesso con le patatine fritte. Metti via. Guarda che a me la patatina piace, queste non le ho prese io, però va bene, continuiamo a dare la responsabilità. Ma non ci posso credere, pure i colpi di sole ti vuoi fare? Scusate, ma che fate? Questo è il mio carrello. Ah. Ah. Ah, è infatti il nostro... Scusate, scusi, eh. Non è che si dure. Figura brutta. Signora. Gentilmente. Fabio, dov'è la mia roba? Che cos'è questa cosa qui? Dov'è la mia spesa? Fabio? Vado a riprendere? Sì. Vado a riprendere? Senta, signorina. Fabio! Prendale. Ma dove sarà questo tonno, eh? Che non lo troviamo. Eccolo qua, pronti. tutti fa aumentare il buco dell'ozono. Anche i bambini a scuola lo sanno. Non sia mai che facciamo danni al sistema. Oh, trovato. Allora, confezione in materiale riciclato. Qui usano proprio i vetri rotti delle macchine rubate per rifare la... Guarda, guarda. Vedi? Questo è allevato. Tra l'altro è un tipo di tonno nipponico che ama il gesto estremo. Si gutta lui nelle braccia del pescatore. Ma va. Mi dia un colpo qua che gli piace. E poi, fra l'altro, vediamo. Amnesty International sa tutto e approva. C'è anche la faccia dell'omino che ride. Vedi? Oh, fantastico. Vedi? Oh, sei euro. Ma sei matto per una scatola di tonno? Non se ne parla neanche. Vai, 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 che benigno questo qua con l'inchiostro blu. Vieni, amore. Scusa, è il buco nell'ozono? Amore. Guarda, amore. Che? Hanno aperto un'altra cassa. Non c'è nessuno. Vuota, dai. Dai, vai, vai. Grazie. Cos'è male quello lì? Visteci la frega, d'amore. Ma guarda stu. Ma guarda stu. Eh no. Non si fa così. Non si fa. Non si fa. Si va spiana al supermercato. Amici, signore. È stata lei che ha insistito. Fabio! Ho detto non si fa. Non si fa. Infatti. Buona giornata, signore. Altrettanto. Prego. Che c'è? Grazie mille. Prego. Grandi ragazzi. Che magari vi... Buona giornata. Buona giornata. Andiamo. Andiamo. per le cose di casa. Ti lascia le pentole a sua sinistra. Attraversa. T'è attento che di là arrivano quelli con gli orologi a parete. Caffè. Subito dopo il caffè. A destra in fondo c'è il reparto Salumi. Ah, ok. No, aspetta. Reparto Salumi. Prosegui alla seconda traversa. Giri alle valigie. Vai avanti ai piatti di plastica. Giri a sinistra. e sei arrivata dopo i pannolini. Ok, ho capito. Capito? Sì, ok. Sicuro? Sì, sì, sì. Ok, ci vediamo fra un po'. Ciao, ciao. Baghina, dove sei? Sono qua al reparto yogurt. Veramente? Eh sì, eh. E come hai fatto, per curiosità? Eh, c'è scritto qua contenitori barattoli. No, c'è scritto anche casa idee? Sì. Michelle, sei dove ero io prima, non ci credo. No, non è il reparto yogurt. Ma che reparto yogurt? Però ti ho dato delle indicazioni precise, Michelle. Ma poi indicazioni precise? Allora, sentiamo, dove sei tu? Eh, sono dove dovevo essere. Ci sono dei frigoriferi dietro, sono quasi arrivato. Sì, e lo yogurt dov'è? Allora, dentro. Cosa vuoi che ti dica, Michelle? Fabio, sai dove ero io prima? No. No, ci siamo persi. No. Amore, come faccio? Vabbè, niente, sta sentire, appuntamento a casa, che lì sappiamo dove. No, amore, non ci arrivo. Salotto, non ti sbagliare. Fabio, Fabio, non so come ricarci. Amore, amore. Ciao, 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 ciao. Iscusi! Iscusi!